Come un ramo. Figlia mia, il mese che oggi comincia è il mese dei frutti. Anche tu devi far sì che la tua vita e le tue giornate rendano abbondanti frutti di vita eterna. Sia questa la tua massima preoccupazione. Essere come un ramo, unita al tronco da cui ricevi la vita. Condizione indispensabile per produrre è infatti che la linfa vivificatrice circoli in esso. Ogni ramo staccato dalla vite non serve che ad essere gettato via e ad essere bruciato, dice Gesù. E ancora, io sono la vite, voi i tralci. Ad interrompere questa comunione di vita vi è solamente il peccato mortale. Con esso l'anima muore alla grazia di Dio. Si spezzano i legami di figliolanza e di amicizia che esistevano con lui. Vengono a mancare la bellezza, la forza, la luce che l'arricchivano. È uno stato di morte che subentra, poiché l'anima lontana da Dio non produce più frutti di vita eterna, anche se essa in quanto spirituale non può morire. La morte è la separazione dell'anima dal corpo. È la disgregazione delle parti, ma l'anima è semplice. Non può dividersi. È un vero stato di morte quello prodotto dal peccato nell'anima, che giace inerte, senza potersi elevare verso il suo creatore, da cui tutto si riceve. Se si vogliono produrre frutti abbondanti, occorre rafforzare i legami con Gesù e vivere di lui e per lui.